Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 256 Ricordo ancora quella volta in un riformatorio ad Oxford. Ero studente di teologia e quel giorno mi era stata data l'opportunità di parlare a degli adolescenti durante una celebrazione. Avevo portato con me un guantone da boxe. Iniziai a mostrarlo ai ragazzi e a sventolarlo in aria. Il mio intento era di far vedere quanto un guantone senza una mano dentro fosse del tutto inutile. Poi misi la mano dentro, strinsi il pugno e lo mostrai a tutti facendone apprezzare la differenza rispetto a prima. Il cappellano della prigione mi fece notare che l'illustrazione usata non era del tutto appropriata per quel luogo. Poteva suggerire ai ragazzi che Gesù avesse a che fare con la violenza. Ma a parte questo, anche secondo lui l'analogia era interessante. Quello che stavo cercando di illustrare era la differenza che Gesù Cristo porta nelle nostre vite con il suo spirito. Senza di lui siamo deboli, come il guantone senza la mano. Commento ai sapienziali. L'autore di questo brano di Proverbi ci esorta a conservare le parole dei sapienti nel nostro cuore, a custodirle nel nostro intimo, a tenerle pronte sulle nostre labbra, così che la nostra fiducia sia riposta nel Signore. Quando comprendiamo e impariamo la sapienza delle scritture, ad esempio memorizzando i versetti della Bibbia, la nostra fiducia nel Signore cresce. Elenca poi 30 massime in materia di consigli e di saggezza. Si tratta di 30 parole di verità. Tre di queste sono contenute nel brano di oggi. 1. Come trattare i poveri e i bisognosi. Dovremmo sempre trattarli con gentilezza, senza mai sfruttarli o affliggerli. 2. Come evitare di rimanere intrappolati nella rabbia e nel malumore. Non ti associare a un collerico. E non praticare un uomo iracondo. 3. Avvertimenti contro il gioco d'azzardo e i consigli pratici per evitare di indebitarsi. Non essere di quelli che danno la mano e si fanno garanti dei debiti altrui. Queste massime sono dei principi saggi che ci aiutano a vivere bene. Ma il cuore della sapienza è più di un buon consiglio. È riporre la nostra fiducia nel Signore. Nel Nuovo Testamento è scritto che Gesù è sapienza. Se Gesù vive in noi, allora anche la sapienza di Dio è presente e vive nel nostro cuore. Signore, grazie perché attraverso il Tuo Spirito vivi nel mio cuore. Grazie per il potere della Tua parola. Aiutami a leggerla, custodirla, meditarla e ad avere le Tue parole pronte sulle mie labbra. Aiutami a porre la mia fiducia solo in Te. Commento al Nuovo Testamento. Rendersi conto che Gesù Cristo vive in noi. Hai mai riflettuto sul fatto che Gesù Cristo vive in te? L'Apostolo Paolo non ha dubbi. Gesù Cristo vive in Lui. Ai Corinzi dice Cristo parla in me. Paolo ha il vantaggio di aver incontrato Gesù risorto. Con grande certezza dice Esaminare la propria vita e condotta è importante ed è diverso dall'autocondannarsi. Paolo esorta i Corinzi ad esaminarsi e a mettersi alla prova. Dice Esaminate voi stessi se siete nella fede. Mettetevi alla prova. Esaminare noi stessi serve a vedere cosa c'è di sbagliato nelle nostre vite, ad ammetterlo e a cambiare rotta. È così che Gesù ci rende liberi. Paolo esorta i Corinzi a rendersi conto che se Gesù Cristo vive in Lui, allora vive anche in loro. Alcune volte dice che noi siamo in Cristo, altre più raramente che Cristo è in noi. E questo è molto importante. In Colossesi 1,27 dice E in due Corinzi non riconoscete forse che Gesù Cristo abita in voi. È la sua presenza in noi che trasforma la nostra debolezza in forza. Ecco perché prega per la loro perfezione e li esorta dicendo Tendete alla perfezione. Naturalmente nessuno di noi raggiungerà mai la perfezione in questa vita. Essere perfezionisti non è una cosa buona. Tuttavia tutti noi possiamo avere l'obiettivo di vivere in una relazione perfetta con Dio e con gli altri. Paolo li esorta nuovamente Abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Ma come riuscire a realizzare tutto questo? Paolo termina con le parole della grazia. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. In queste parole troviamo tutta la Trinità. È la meravigliosa grazia di Gesù che ci permette di essere costantemente perdonati e purificati. È lo straordinario amore di Dio, il Padre, che riempie i nostri cuori e ci fa puntare all'amore perfetto. È l'amicizia intima dello Spirito Santo di Gesù che vive in noi, che ci trasforma da persone imperfette a persone che un giorno lo vedranno faccia a faccia. Solo allora raggiungeremo la perfezione. Signore, Tu vivi dentro di me. Possa la Tua grazia straordinaria fluire attraverso tutto ciò che faccio. Riempimi oggi della Tua conoscenza, del Tuo amore e dell'intima amicizia del Tuo Spirito Santo. Commento all'Antico Testamento Conoscere l'amore di Dio riversato nel nostro cuore dallo Spirito Santo Con la Pentecoste, lo Spirito di Cristo è venuto ad abitare dentro di noi. L'amore di Dio per noi è stato riversato nel nostro cuore attraverso lo Spirito Santo di Gesù. È il suo Spirito che ci dà la consapevolezza che siamo figli di Dio e che Cristo vive in noi. In questo passaggio Isaia vede sei immagini di Dio. 1. Maestro Il Signore è il nostro maestro. Ci insegna attraverso il pane dell'afflizione e l'acqua della tribolazione. Spesso è attraverso i momenti difficili della nostra vita che impariamo di più. Gesù si definisce il Signore e il maestro. 2. Guida I tuoi orecchi sentiranno questa parola dietro di te. Questa è la strada. Percorretela. Casomai andiate a destra o a sinistra. Lo Spirito Santo ci condurrà e ci guiderà lungo la strada stretta che conduce alla vita. 3. Guaritore Il Signore curerà la piaga del suo popolo e guarirà le lividure prodotte dalle sue percosse. Molto spesso quando le persone incontrano Gesù per la prima volta sperimentano la guarigione di ferite e dolori del passato. Questa guarigione è un processo che dura tutta la vita. 4. Re Gesù è il Re che regnerà secondo giustizia e i cui principi governeranno secondo il diritto. Egli governa le nostre vite attraverso lo Spirito Santo che abita in noi. 5. Sapiente Egli è la fonte della nostra sapienza. Isaia mette in guardia dal confidare nelle proprie forze senza guardare al Santo di Israele e senza cercare il Signore. Lo Spirito Santo è la fonte della sapienza nelle nostre vite. 6. Madre Come uccelli che volano così il Signore degli eserciti proteggerà Gerusalemme. Dio è per noi sia padre che madre. Lo Spirito Santo è spesso associato al lato femminile della natura di Dio. Lo Spirito Santo è lo Spirito di Gesù. Attraverso lo Spirito Santo Gesù viene ad abitare dentro di noi. Il profeta Isaia sembra intravedere il giorno di Pentecoste. Dice in noi sarà infuso uno Spirito dall'alto. Prenderà dimora il diritto e la giustizia, pace, sicurezza per sempre, abitazioni tranquille, in luoghi sicuri, beati voi. L'effusione dello Spirito porta a grande fecondità, giustizia e pace, calma, fiducia, sicurezza e riposo. Porta a una semina generosa e alla libertà. Dio promette che se cammineremo secondo lo Spirito Santo godremo di grandi benedizioni in questa vita e nell'eternità. Signore, grazie per il privilegio di vivere nel tempo dello Spirito, un'era che il profeta Isaia ha solo intravisto. Grazie, perché ora possiamo sperimentarlo in pienezza, poiché Gesù Cristo vive dentro di noi mediante il suo Spirito.